Leonardo Scanferla, una tua considerazione un po' sul match vinto con Cisterna? Una partita molto difficile perché Cisterna è arrivata qui senza nulla da perdere, ha giocato molto Spavalda. Siamo riusciti noi a partire forte subito il primo set e a metterli in difficoltà. Lo stesso abbiamo fatto il secondo e il terzo, quindi è stata una bella prestazione di squadra e siamo contenti del risultato. Mercoledì si scende di nuovo in campo, c'è la recupera infatti con Verona. Quali sono gli aspetti su cui bisognerà prestare maggiore attenzione? Sicuramente andiamo lì con tanta voglia di vincere perché una vittoria può farci fare quel salto in classifica. Sarà anche quella una partita difficile, sarà una battaglia, dovremo approcciarla come se fosse una finale. e loro hanno giocatori veramente esperti e bravi per cui dovremo essere bravi a metterli sotto fin da subito. Iscriviti al nostro canale